Una vittoria al tie break rincorsa fino all'ultimo respiro che interrompe una serie negativa che durava da due giornate. Questo è il risultato della partita di McLeodio tra Promoball Sanitars contro le ospiti della Pro Perzi Volley Lodi, con la vittoria delle padrone di casa per 15-8 al quinto set dopo una grande rimonta. Il primo set parte con una formazione rivoluzionata da coach Johnny Taramelli, in cui le ragazze di Flero non trovano la bussola. Lo scontro fortuito di gioco tra il libero Promoball Bertoletti e Giacomini per una gomitata durante una fase di gioco ha di fatto bloccato la partita per 5 minuti, che non sono servite alla squadra di Flero per recuperare mentalmente e ribaltare il risultato. Il risultato di 24-26 però fa capire quanto le ragazze di casa siano state agguerrite nonostante le difficoltà. Il secondo set parte con un cambio di posizione per Zanetti della Promoball Sanitars spostata da S2 a libero e con Marinoni in panchina per un problema al ginocchio durante gli allenamenti pre-partita. Le modifiche alla disposizione in campo interessano anche Basalari, spostata come opposto, e Giacomini in S1. La squadra bresciana comincia col piede giusto andando subito in vantaggio, ma in palleggio in attacco a qualche difficoltà, tanto che le lodigiane prendono coraggio e recuperano un risultato a loro sfavorevole portando la partita per la seconda volta consecutiva ai vantaggi e conquistando il secondo set consecutivo con lo stesso punteggio del tempo precedente, 24-26. Il terzo set riparte con una restaurazione tattica da parte di coach Taramelli. Le ragazze riprendono in mano la partita con più ordine di gioco e il risultato si vede subito con una serie di battute inanellate che aiutano le ragazze della Promoball a portare a casa il terzo set con un incoraggiante 25-18. Il set del dentro o fuori, cioè il quarto. Stante un risultato parziale di 1-2 per le ospiti, la Promoball inizia bene con una Marinoni che supera il dolore al ginocchio e fa la differenza alla battuta, incasellando svariati punti e con l'aiuto delle compagne di squadra porta a casa un set bello e combattuto con un punteggio di 25-23. Il quinto set, il tie break, pende per la Promoball Sanitars. Le ultime rivoluzioni riguardano Turina che torna in campo e un altro paio di cambi importanti per l'ordine tattico che permettono alla squadra di portare a casa una bella vittoria in rimonta e che fa ben sperare per le prossime giornate di campionato. Ed ora, occhi puntati alla trasferta di sabato contro le Seriana Pirates.